ciao buona serata allora eccoci qua seconda restituzione giornaliera serale perché evidentemente non basta quella di questa mattina perché qui le incazzature aumentano allora beh allora abbiamo da poco saputo che i grandi media mainstream hanno eletto hanno decretato biden presidente della degli stati uniti alla faccia del del fatto che si deve comunque aspettare tutto l'iter giudiziario perché i reclami ci sono ci saranno e quindi la strada è lunga si devono concludere entro se non ho capito male l'otto dicembre quindi qui vedremo anche se come ho scritto su un veloce post su facebook se i patrioti che appoggiano trump avevano veramente tutto sotto controllo come hanno sempre affermato e come hanno continuato a sottolineare anche dopo anche dopo il primo giorno degli spogli elettorali quando si è visto che magicamente le cose andavano verso andavano verso biden vedremo se realmente avevano tutto sotto controllo e se tutto doveva andare a finire in questo modo per trasformarsi in una realmente in una mega esposizione delle malefatte del deep state a livello globale vedremo poi però intanto sia come sia qui abbiamo per esempio la pagina 5 del Corriere della Sera in media mainstream Trump toglie ogni freno si scaglia contro i voti illegali e promette ricorsi infiniti quindi toglie ogni freno come se ci debba essere qualche senso di inibizione perché tanto i ricorsi insomma se hai materiale per farli li fai e poi speriamo che verranno equamente accolti, verificati e pesati speriamo ma ovviamente se poi non hai se il materiale per fare il ricorso è inesistente o fuffa il ricorso sarà annullato, sarà bocciato quindi questo toglie ogni freno fa veramente vedere da che parte è schierato il Corriere della Sera che è il più importante, il giornale italiano dietro le speculazioni sui brogli la mano di Giuliani ovviamente finché non ci sono le prove sono speculazioni e Twitter lo smentisce ancora, no? Trump contenuti fuorbianti come se la smentita di Twitter sia una cosa ufficiale che abbia realmente un peso tale da essere annotata no? e poi il modo in cui lo si annota dietro le speculazioni sui brogli la mano di Giuliani che sarebbe l'ex sindaco di New York e avvocato di Trump e Twitter lo smentisce ancora, no? quindi si fa conto di questa si annota questa cronaca in maniera del tutto sbilanciata il tutto errato ma solo su questa pagina non vi parlo altro la perla l'abbiamo con un piccolissimo trafiletto alla CNN CNN di un certo o certa, non lo so ci rizzacasa d'orsogna attenzione l'inutile sfottò sull'obesità di Donald Trump c'era qualcuno che ha fatto uno sfottò sull'obesità di Donald Trump adesso lo leggiamo, è brevissimo ma c'è qualcosa da dire questo per far capire in che mondo viviamo le cose che assorbiamo le cose su cui abbocchiamo e come ce la raccontano perché si svolge tutto sui media sono questi i signori perché questi è chi c'è sta dietro chi hanno dietro i loro reali proprietari che sono i padroni del discorso una tartaruga obesa capovolta che si agita sotto il sole cosciente consapevole che il proprio tempo è finito questa è la frase incriminata è lecito fare fat shaming se qualcuno cioè praticamente prendersela in maniera bullizzare praticamente una persona grassa quindi è proprio è lecito fare fat shaming su qualcuno se quel qualcuno è Trump già solo la domanda no, non è lecito anche se fosse l'ultimo sconosciuto sulla faccia della terra non dovrebbe essere lecito quindi già la domanda del giornalista giornalisto o giornalista che non so chi è è tendenziosa, no? è stato riascoltato da milioni di persone il filmato di Anderson Cooper che non so chi è ma le parole dell'anchorman della CNN sono sbagliate ah, meno male meno male ma poi sentirete ma le parole sono sbagliate perché irridendo Trump per il suo peso distoglie dalle vere magagne e perpetua l'equazione grasso uguale immorale quindi è sbagliato perché ci sarebbe, no? quindi questa cosa che si perpetua no, questo perché viviamo nel mondo nella cultura materialista estetizzante dedicano a vari tipi di di veramente di mobbing e di visioni del mondo della persona del benessere che sono del tutto fallaci e ovviamente poi viviamo pur sempre in un mondo che ripropone le dinamiche vecchie come l'uomo nonostante la sua presunta evoluzione modernità cioè che sono veramente tristi quando poi queste dinamiche si rispecchiano si amplificano sui media quindi beh io c'ho una certa età no? una cosa così un anchorman della televisione in bianco e nero non l'avrebbe mai detta mai mai fatta una cosa del genere non sarebbe stato possibile ma non perché c'era qualche legge che lo impediva perché era il senso morale tra virgolette istituzionale della delle persone che andavano in televisione che avevano si sentivano una responsabilità di parlare al paese in un certo modo quindi è l'ennesima conferma che siamo finiti in un mare di merda no? soprattutto da quando i medi hanno sul classato qualsiasi altra altro messaggio culturale di qualsiasi tipo quindi non è lecito no? per i due per i due motivi che abbiamo detto che distoglie dalle vere magagne e perpetua l'equazione grasso uguale morale e quante persone grasse verranno insultate perché se l'ha fatto Cooper si può fare quindi questo evidentemente è un anchorman della CNN quindi è conosciuto non è la prima volta mesi fa era stato a Nancy Pelosi a definire Trump un obeso mostruoso cioè questi sono gli Stati Uniti la presidente della Camera il presidente della Camera poniamo in Italia che la Castellati dica di che ne so di chi c'è il grasso in politica adesso sono tutti vabbè c'è qualcosa vabbè dica di 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 Conte o di di un di un politico no perché dire grasso mostruoso grasso no spedere un obeso mostruoso no è mostruosamente obeso è un obeso ma è anche mostruoso intanto bisogna vedere fare un insulto così sulla persona in quanto persona in Italia ancora non ci siamo arrivati a livelli istituzionali no Fico non direbbe mai una cosa del genere di Conte o la Castellati appunto in America si può fare anche questo la democratica insomma sicuramente anche i repubblicani fanno tutte queste cose perché in America sembra che si possa va bene quindi non è la prima volta Nancy Pelosi ieri anche a sinistra tanti hanno biasimato le parole di Cooper parentesi i veterinari precisando che la capacità di capovolgersi di una tartaruga dipende più dal guscio che dal peso quindi una giusta annotazione scientifica sulla cosa mi sembra giusto e sorprende che a dirle sia uno che apertamente gay conosce bene la discriminazione eh sì la dovrebbe conoscere ma siccome questa persona è apertamente gay praticamente fa evidentemente visto che è un anchorman della CNN fa parte della elite dei privilegiati dei radical chic probabilmente lui non è neanche mai stato discriminato perché se no non l'avrebbe detta una cosa così e soprattutto fa parte di quella minoranza che sta cercando di eh come dire plagiare la cultura e la maggioranza eh in Italia accade con il DDL Zan insomma no per quindi per fare per rivendersi come no quelli corretti quelli precisi quelli dei diritti umani quelli delle minoranze quella e poi però quando l'avversario politico è così schifoso non si trova altro che altro modo di contrastarlo se non con appellativi di questo genere no questi sono i dem i democratici i progressisti quindi quindi ma sentite qui arriviamo alla fine dell'articolo eh qui è bello non è il grasso di Trump a essere immorale sono le sue politiche non dice quali ma le sue politiche Trump brutto sporco e cattivo è il peggior leader che gli Stati Uniti abbiano mai avuto ma il suo peso non c'entra quindi vediamo un po' Trump non ha fatto guerre ha mandato l'America economicamente fino al covid assai bene ed è stato l'unico politico di rilievo mondiale ad avere una posizione nettamente alternativa confliggente con l'emergenza sanitaria che sta ammorbando il mondo da febbraio l'emergenza non il virus in più è un nemico dichiarato dei media mainstream della big tech sta cercando di ricondurre la Cina al suo posto che non è quello di nuovo padrone del mondo tecnocratico che attraverso la smisurata potenza della sua corruzione e della sua moneta infinita perché loro hanno una moneta sovrana e possono stampare quella che vogliono in più le loro grandi aziende sono tutte quotate Wall Street quindi sono tutte in mano alle elite della finanza quindi Trump si oppone a tutto questo sistema in qualche modo poi vedremo se riuscirà a resistere come presidente vedremo realmente come sempre detto che cosa farà su queste cose sta riportando a casa i militari sta cercando un po' di riequilibrare alcuni assetti geopolitici non ha fatto guerre finte ha aumentato gli stipendi ai neri alle minoranze agli indiani sta riconoscendo diritti finanzia le università nere non ha fatto guerre ripeto ancora ma quindi si è fatto comunque tutti questi bei nemici tanti nemici tanto onore una volta si diceva ma il peggior presidente il peggior leader che gli stati uniti abbiano mai avuto ok più degli schiavisti più di truman che ha buttato la bomba atomica più di quelli che hanno iniziato e continuato il Vietnam più di Nixon più di Bush padre e Bush figlio con le guerre con le presunte con le guerre basate su presunte prove poi rivelatesi false più di Obama che ha buttato una marea di bombe a nove conflitti e ci ha preso anche il Nobel per la pace se ne faceva dieci gliene davano due non lo so però Trump è il peggior leader qualche domanda ve la fate ce ne diamo conto in mano a che stiamo questo è il Corriere della Sera Corriere dell'elite ok da sempre il presidente Cairo il proprietario è lo stesso della Sette a quel grande giornalista direttore al suo tg che risponde al nome di Mentana capito quindi Trump sarebbe peggio di quello che ha buttato la bomba atomica complimenti questa è la realtà noi viviamo in questa realtà non abbiamo nessuno che ci difende se Trump non riuscirà a non cadere veramente non ci sarà più nessuna speranza a meno veramente di un miracolo che può sempre avvenire per carità mai dire mai e se Trump non riuscirà a non cadere la tecnocrazia globale il regime tecnocratico di controllo globale come lo chiamo io stringerà velocemente con tutto il possibile controllo reso possibile appunto dalla tecnica verremo governati sempre più dall'aspetto sanitario dall'aspetto ecologico si resetterà il mondo e auguri a tutti al nostro libero albitrio e alla libertà in ogni senso riflettete su queste cose Trump peggior leader che gli stati uniti abbiano avuto ci rizzagasa d'orsogna segnatevi questo nome ciao ciao e buonasera